Io penso telecamere sì, per quanto riguarda la sicurezza pubblica, poi ognuno di per sé nel suo locale può fare quello che vuole. Io personalmente le installerò a breve e per quanto riguarda il pubblico ovviamente ci deve pensare il Comune. Sì, sono favorevole, è sempre una cosa in più per la tutela di tutti anche. Lei diceva nel suo esercizio ha già le sue telecamere? Sì, ce ne sono due, una là e una di qua. Le telecamere sì, all'interno potrei assumermi il costo, all'esterno penso che sia l'amministrazione a dove si assume dei costi della sicurezza. Trovo una proposta interessante, sicuramente per la sicurezza, anche per quello che è successo anche ultimamente fra furti e qualche piccola rissa, trovo una soluzione interessante direi, penso che può essere un buon incentivo. Io penso che le telecamere sono utili, sono bene per qualsiasi roba. Dici che servirebbero quindi all'interno del bar? No, perché all'interno del bar la situazione è tranquilla, gestibile. Noi abbiamo la possibilità di gestire ciò che succede all'interno, mentre non riusciamo a gestire ciò che succede all'esterno. Le problematiche maggiori sono fuori, perciò le telecamere potrebbero essere un deterrente, ma se non sono aggiunte alle forze dell'ordine, poco succede. Cioè, identifichiamo persone alle quali poi non si può fare niente? Tutto di domanda. Anche magari le telecamere all'esterno potrebbero aiutare ad evitare alcuni disastri che accadono? Esatto, a parte dei disastri, anche dei furti, dei furtarelli, anche ai miei bar e cose, no? Lì c'è stato troppo... Servi servono sempre, appunto, anche quando si menano e cose, quello succede spesso anche qua in Piazza delle Erbe. Molto spesso non sono i clienti dei bar che creano problemi, furti, bottiglie, eccetera, eccetera, ma è della gente che gironzola per strada. Non sono efficaci al 100%, però statisticamente sono un ottimo deterrente. Quindi un aiuto lo possono dare, secondo te? Sicuramente, sicuramente. Poi serve dall'altra parte, insomma, un po' più di rigore dal punto di vista legale. Io le ho già, però solo per il controllo del distributore, eccetera. Però non so loro dove vogliono metterle esternamente, messe nei bar, che guardano sulla strada o per la sicurezza dei bar, che dopo anche quello è... Entrambe le cose, sia all'interno del bar che fuori? Ma sì, può essere un'idea, una buona idea. Risolverebbe qualche problema, magari? Qualcosina, qualcosina, ecco, diciamo così. Grazie. Grazie. Grazie.